Buongiorno a tutti ed eccoci qui in un nuovo video sui pavoni ingrifati. Oggi continueremo a sviluppare il nostro clicker games come ad esempio Adventure Capitalist se non sapete il genere clicker games. Nel primo episodio abbiamo soltanto dato una panoramica, un'occhiata al programma tra virgolette perché alla fine non scarichiamo assolutamente nulla, facciamo tutto online tramite un testo, tramite un linguaggio informatico molto semplice. Comunque questo qua è il gioco che abbiamo già visto dove c'è questo hamburger che noi cliccheremo e guadagneremo tanti burger eccetera. Vedete che qua in alto a sinistra è 277 burgers e possiamo poi migliorarlo eccetera, prendere robe per velocizzare il guadagno di burgers. Quindi noi adesso andremo a modificarlo creando invece un bordello. Quindi noi metteremo come soggetto un bordello e cercheremo di guadagnare più libidine possibile. Questo sarà il nostro obiettivo del clicker game. Quindi andiamo, ovviamente tutti questi link che vedete li trovate in descrizione come nel primo episodio. Quindi torniamo nel nostro testo, questo è il testo che noi utilizzeremo per modificare questo hamburger. Quindi eccoci qui, avevo già modificato nello scorso episodio il nome e basta, avevano ingrifatti by me o by me e ho messo delle date a caso ma solo questo. Adesso andremo a modificare un'altra cosa, cioè il soggetto di questo gioco, quindi i burger. Al posto dei burger metteremo la parola libidine. Come fare? Questa è la parte più noiosa e complicata tra virgolette perché se sbaglierete a scrivere la parola anche solo una volta il gioco andrà a farsi fottere. Quindi stiamo molto attenti, vi farò vedere un trucchetto per non sbagliarsi mai. Quindi noi dovremo modificare la parola burger e burgers, plurale, con libidine. Come fare? Per tutto schicciate ctrl f e scrivete burger, così vi sottolineerà tutte le parole burger. Poi andiamo su clone, qui clone, in modo tale da poter modificare questo testo. Ed eccoci qua, se ne è andato via la nostra ricerca, quindi ctrl f, burger. Eccoci qua. Allora, andiamo al primo, resources, burgers. Noi andremo a modificare soltanto le parole burger e burgers. Ve lo ripeto, mai parole che hanno scritto burger stand come ad esempio qua in basso. Burger stand, no, non lo modifichiamo per ora. Solo le parole con burgers. Anche questo, burger.png, non lo modificate per ora. Lasciate stare, solo le parole burgers da sole. Anche burger making, no, lasciatelo perdere. Allora, andiamo su libidine e burgers e scriviamo libidine per me. Poi voi potete mettere anche carote per quel che ne so. Libidine e qua con ctrl c lo copio e con ctrl v metto al posto di burger. E anche di burgers, questo è il plurale. Libidine non ha il plurale, quindi scriverò soltanto libidine. Se voi mettete carota, mettete carote. Qua burger, perfetto. Qua anche qui give one burger. E burger one libidine. Libidine. Qua no. E poi continuiamo così. Anche qui potete metterlo. E tutti i burger che ci sono. Burger making no, perché sono due parole. Ok. E soltanto per facilitarvi, perché sennò rischiate poi di mandare tutto a puttane e se modificate anche quelli. Che poi modificheremo, eh. Non c'è problema. E andiamo avanti così. Finché non li finiamo. Teoricamente, attenzione qua. Qua ho fatto un errore. Ho fatto quindi ctrl z per andare indietro. Perché qui sono attaccate. Ecco, con uno spazio le rimettiamo staccate. Anche qui. Queste lasciamo. E continuiamo così. Quindi adesso lo faccio per tutto, fino a upgrades. Upgrades potete lasciarlo momentaneamente. Non ci serve in questo episodio. Se voi volete invece farlo, potete modificare tutti i burger mettendo la parola che a voi serve. Quindi carota e la mia libidine. Quindi ci vediamo fra poco quando ho copiato tutto quanto. Eccoci tornati. Allora, ho messo libidine fino alla upgrade. Fino dove c'è? Fino qua. Poi dopo torna a burgers. Vedete? Qui c'è da burgers. Fino qua ho messo libidine perché è quello che ci serve per questa puntata. Una cosa importante, un consiglio, copiatovelo qua, nel notepad, nel block notice. Così nel caso in cui abbiate sbagliato qualcosa, potete ritornare al punto di prima. Ovviamente prima di scrivere la parola libidine o carota, quel che volete voi. Così non dovrete ricominciare tutto da capo. Quindi, ora che si fa? Abbiamo già visto nel video precedente. Andiamo in fondo. Facciamo create new past. I'm not a robot. Questa è la parte più stupida perché ci fa perdere un sacco di tempo. Submit. E così è fatta. Abbiamo il nostro codice. Abbiamo creato il gioco. Però per vederlo dobbiamo prendere qua in alto il nostro codice. Qui 7x, il mio eh. Poi il vostro sarà sicuramente diverso. Control C. E lo copiamo qua, al posto di Y, eccetera. Dopo l'uguale. Quindi facciamo così. Invio. E voilà. Vedete? Risorse libidines. Ecco, mi sono indicato di togliere la S. Se andiamo a vedere, qui in basso, libidines, vedete qua? Mi sono indicato di togliere questa S. Va bene, non è importante. Però se clicchiamo, vediamo più 1 libidine, più 1 libidine, più 1 libidine. E libidine qui costa 15 libidine. Non abbiamo soldi, sì ce l'abbiamo, ora ce l'abbiamo. Ok, comprato un po' di libidine, così, eccetera. Questo è quello che abbiamo fatto per ora. Mettere soltanto la parola a libidine. Ora modificheremo anche l'immagine. Questa immagine qua. E questa del cuoco. E faremo, e anche scriveremo un altro dettaglio, qui descrizione, di cosa fa questo upgrade. Quindi, torniamo ovviamente al nostro bel testo. Clone per rimodificarlo. E ci siamo. Allora, bisogna andare su questo sito per modificare le immagini. Post image. Molto semplice. Andremo anche su Google. Cercheremo bordello logo, ovviamente per me. Immagini. Chi è caro l'immalizia? Non pensate male, non la conosco. Lasciamo perdere. E vabbè. Allora. Prendiamo l'immagine di Google, una qualunque, come volete voi. Io prendo questa, che mi va bene. Bordello di Ultimate Seduction. Facciamo copia indirizzo dell'immagine. Andiamo qua, sul sito di prima. Control-V. Web. Ricordate web, non computer web. Inserisci immagine. Adulti più 18, ma sì. Può essere, quindi non rischiamola. Mettiamo adulti più 18. Ora aspettiamo un secondo, anzi, meno di un secondo. Ed ecco l'immagine. E il problema che è minuscola. In questo caso, torniamo indietro. Andiamo su computer. Se è troppo piccola, ecco perché. Perché qui c'è scritto avatar. Non è avatar. Mettiamo 800x600. O è troppo grande? Beh, proviamo. 800x600. Web. Ricopiamo. Control-V per rimettere l'immagine. Inserisci immagine. E vediamo un po' adesso se... Ecco, qui già più grossa. Perfetto. Prendiamo il secondo link, questo qua. Il secondo link diretto. Copia. Torniamo nel nostro... Testo. E andiamo qua. Dov'è? Qui? Sì. Picture. E al posto di questa link di Burger PNG, noi metteremo quello che abbiamo appena creato. Quindi bordello.jpg. Ok? Perfetto. O quello che avete creato voi. Ovviamente potete anche mettere un'immagine dal vostro computer, che poi faremo per l'altra immagine. Quindi non vi preoccupate. Allora, fatto. Perfetto. E ora invece andremo a modificare anche qua... Sì. Adesso andiamo a prendere un'immagine dal computer invece. Faremo... Torniamo nel nostro sito. Post image. Computer. E facciamo però più piccola avatar. Perché ci servirà per questa immagine qua, per il cuoco. Scegli. Qua prendiamo l'immagine di una banana, nel mio caso. Vi consiglio di togliere lo sfondo, quindi fare un PNG senza sfondo, con Photoshop, quello che volete voi. Se no, ovviamente, renderà più brutto il gioco, solo per questo. Inserisci l'immagine. Quindi abbiamo questa banana. Eccola qua, banana. Vi ho detto metterla in avatar, come grandezza. Copiamo il secondo link. Stiamo attenti a copiare il secondo link, non il primo. Torniamo indietro. Lo mettiamo al posto del secondo. Questo qua. Quello che si dice con burgercook.png. Ecco fatto. E ora modificheremo anche la scritta qua. Allora, vi consiglio di non togliere frycook. Questo qui con l'asterisco al momento. Perché crea molti problemi. Perché dovremo modificare anche tutti gli altri frycook. Al momento, per soltanto velocizzare un po' le cose, modificheremo soltanto questo qua sotto. Quindi al posto qui dove c'è named, al posto di frycook, metteremo, nel mio caso, banana. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Qui banana. Ah, prima che mi dimentichi, vi consiglio sempre di copiare il testo e collarlo nel block notice, prima di fare questo passaggio. Così se per caso succede qualcosa, non perdete tutto. Allora, banana. E frycooks, quindi, sì, spagnolo, è plurale. E banane. Perfetto. No, qui c'è fry che non ci dovrebbe essere. Perfetto, perfetto. Banane, banane. Voi mettete carota, carote. E cellulare, cellulare, cellulari, eccetera. Quindi, dovremmo avercela fatta, speriamo in Dio. Ah sì, modifichiamo anche la descrizione. Quindi qua mettiamo, ad esempio, a posto di un svogliato, addormentato, cuoco, quel che è, mettiamo una banana per amica. E qua, ogni banana aggiunge più 10%, qua, lasciate più 10%, al guadagno automatico. Ecco, cioè significa che guadagneremo senza dover cliccare sempre ogni volta il burgero, o in questo caso il logo del nostro bordello, per guadagnare libidine. Ma guadagnerà automaticamente un po' di libidine alla volta, senza che noi dobbiamo cliccare, ok? Se avete capito, spero di sì. Quindi, perfetto. Ci dovremmo essere. Speriamo in Dio, andiamo in giù. Quindi, crea, new past, I'm not a robot. Oh, madonna. Eh, questo. Dai, su. Che palle. Submit. Perfetto. Prendiamo il nostro codicino. Andiamo. Prendiamo il nostro codicino. Prendiamo il nostro codicino. Torniamo qua. E proviamo. Speriamo in Dio. Ve lo dico subito, il logo dovrebbe venire un po' più a destra, però non è un problema, poi lo modificheremo meglio. E eccoci qua. Sì, è andato, vedete? Qua tutta libidine che sale. Qua sinistra libidine. Eh, perfetto. Qua la banana e il logo, come vedete. Quindi, quindi, c'è una banana per amica, ogni banana aggiunge 10% al guadagno automatico. Quindi, ne faremo così. E ogni secondo guadagneremo 0,1 punto di libidine. Questo significa. Quindi, se ne compriamo un altro, 0,2, eccetera, eccetera. Qua poi saranno gli altri upgrade che faremo. Comunque, per ora va bene così. Sì, questo l'abbiamo fatto oggi, mi sembra già abbastanza. Se avete problemi o quello che volete, scrivetemi nei commenti che cercherò di aiutarvi. Quindi, grazie a tutti. Ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qua. Sì, ma buoni ingrifati. Ciao a tutti.